Buonasera Massimo Profeta. Ciao, ciao Paolo. Allora, tra gli obiettivi, diciamo subito anche la giovane centrocampista di proprietà dell'Atalanta, Emmanuel Jabua, che era già stato accostato al Pescara lo scorso mese di gennaio, per essere ancora più chiari, nell'ultima sessione invernale. 21 anni ancora da compiere, nell'ultimo campionato Emmanuel Jabua è stato prestato al Perugia. Non è stata una stagione eccezionale, entusiasmante per questo ragazzo, era la prima esperienza professionista, soltanto sei presenze, nessuna da titolare ruolo mezzala. Nella primavera nerazzura, Jabua si è distinto anche e soprattutto per la sua duttilità, perché può fungere anche da vertice basso. Le caratteristiche peculiari sono quelle della corsa e dell'aggressività. Cresciuto nel Parma, lo ricordiamo, Jabua è approdato l'Atalanta dopo il fallimento del club Ducale nell'estate 2015. È stata bloccata la partenza dell'argentino Nicolas Belloni, che sembrava ad un passo dalla potenza nell'attaccante ex imolese. Sarà valutato con attenzione dal neotecnico Alberto Colombo per tutta la durata del ritiro, che partirà, lo ricordiamo, venerdì prossimo, 15 luglio, appunto nella località di Palena. Ormai sono anni che il Pescara ha scelto Palena come sede del ritiro precampionato. È stato confermato l'interesse per il terzino destro classe 2003 della Lazio Romano Floriani Mussolini e poi c'è da dire che non si registrano in passi avanti per il trequartista Maiorino, ma sono ore, se non giornate decisive, per lo svincolato Luca Mora, classe 1988 ex Spalle, per il regista Salvatore Pezzella, ex Siena Modena e Reggiana, ma di proprietà della Roma. Riepilogando in entrata Saccani in prestito secco dal Sassuolo, Milani a titolo definitivo dalla Ponte d'Era, De Marino dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Somma arriva in Lombardi a titolo definitivo dal Monza, Lescano a titolo definitivo dall'Entella, Cuppone in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, ricordiamo che arriva dalla Cittadella, 15 gol dell'attaccante classe 97, oppure promozione in Serie B del Delfino con il 60% delle presenze di questo attaccante. Operazioni in uscita, Sorrentino a titolo definitivo al Monza, Risalde a titolo definitivo all'Indipendente, Clemenza a titolo definitivo all'Entella, De Marchi al Padova, sempre con la stessa formula, Nzita a titolo definitivo al Bershot, Club Belga e poi Di Grazia che è passato a titolo definitivo al Potenza. Per chiudere, Paolo, parliamo anche del campeonato d'eccellenza, perché è ufficiale, Fabio Montani è il nuovo allenatore della Lanciano al Neo DS Enzo Lucifora, è stato sufficiente un breve incontro, la scelta è stata decisa per Entoria, in passato Montani ha legato il suo nome al club rossonero sia da calciatore che da vice allenatore, 54 anni ancora da compiere, Montani ha giocato con la Lanciano, era un centrocampista di qualità in C2 dal 91 al 93, ha realizzato 12 gol in due stagioni, successivamente in D in eccellenza, esperienza altresì da allenatore come vice di Andrea Camplone in Serie C1 nella stagione 2006-2007. Negli ultimi anni, dopo gli spareggi, Fabio Montani ha riportato la Francavilla in Serie D nel giugno del 2017 e l'anno successivo ha centrato la salvezza in D alla guida del San Nicolò, subentrando a Luca Campanile.